Si possono alzare? No, manteniamo l'ordine. Va bene, voi non vi potete alzare, dovete stare seduti, lì fino alla fine. Però da casa possono alzarsi, buttare il tavolo in terra, buttare tutte le sedie fuori dalla finestra e ballare questo bel meneito che si intitola La vendemmia dell'amore. La vendemmia 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 La vendemmia